Grazie a tutti, grazie di essere venuti in questo che è il primo evento di ripresa post pausa estiva dell'attività convenistica del Machiavelli, come forse avrete notato nel frattempo è già ripresa quella relativa pubblicazione di report, è uscito un dossier relativo alla mafia nigeriana in Italia, prossimamente sarà oggetto nella presentazione, sono riprese anche le pubblicazioni degli articoli nel nostro blog, gli articoli di commento e opinione, vi invito quindi a visitare il nostro sito www.centromachiavelli.com dove troverete tutto questo materiale. Oggi siamo qui perché abbiamo il piacere e l'onore di presentare un nuovo membro del nostro consiglio scientifico, la professoressa Ginevra Cerrina Ferroni, che è una ordinaria di diritto costituzionale all'Università di Firenze, ci fanno compagnia l'onorevole Gianluca Vinci, vicepresidente della prima commissione, quell'affari costituzionali e c'è poi l'onorevole Guglielmo Picchi che chi segue i Machiavelli conosce come nostro storico sostenitore e gli altri invece lo conosceranno come sottosegretario nel passato governo. Il tema di oggi parleremo della sovranità popolare, questo principio costituzionale che sta nel primo articolo della Costituzione, anche se poi capita che qualcuno se lo dimentichi, vi ricorderete il siparietto di Gianni Riotta, credo con Antonio Maria Rinaldi in tv, dove il famoso giornalista era sgomento allo scoprire che c'era la sovranità popolare nel primo articolo della nostra Costituzione, ma un problema che viene spesso sottolineato è che questa sovranità popolare sembra quasi diventare, essere ridotta a una mera titolarità formale, ma poi il potere di fatto che deve rispettare al popolo viene effettivamente garantito o ci sono degli altri meccanismi, delle altre forze che invece tendono a comprimerlo e a di fatto neutralizzarlo, questo è il tema che affronterà la professoressa, non indugiamo oltre, visto in poco tempo a nostra disposizione, quindi passo immediatamente la parola. Prego. Sono io a ringraziare il Centro Studi Machiavelli, il suo presidente, il professor Gervasoni per questo graditissimo invito e anche per avere avuto l'onore di essere cooptata nel Consiglio Scientifico del Centro Studi Machiavelli, al quale spero di poter portare un mio piccolo contributo nella mia ottica di costituzionalista. Direi che affrontare oggi laicamente il tema della sovranità popolare nel rapporto cioè tra sovranità e demos è un'operazione non scontata per un costituzionalista. Questo rapporto tra sovranità e demos è stato per lunghissimo tempo stato ai margini del dibattito. Devo dire che c'è stata una dimenticanza del tema, non si è affrontato e direi anche con un certo sospetto si parla tra costituzionalisti di sovranità popolare. C'è stata una sorta quasi di rimozione collettiva freudiana nella nostra comunità e questo è una cosa che mi ha sempre molto colpita. E quindi credo che oggi occorra veramente riparlare del tema provando a decontaminare il dibattito che è diventato un terreno di battaglia e invece occorre ricontestualizzare il tema affinché si possa aprire veramente un confronto e una dialettica costruttiva. Allora provo nel tempo che mi è stato concesso ad affrontare in maniera molto sintetica tre punti, tre traiettorie. Il primo punto ritengo necessario andare a riscoprire una sorta di interpretazione autentica del dibattito in assemblea costituente. Cosa dicevano i nostri padri costituenti quando discussero di questo articolo 1. Il secondo tema che vorrei affrontare è un confronto tra sovranità popolare e sovranità parlamentare. Il terzo tema è un po' l'attualizzazione di questo principio e anche le ultime vicende politico-istituzionali che ci hanno interessato. primo punto il dibattito in assemblea costituente prima nella prima sottocommissione poi nella commissione di 75 è stato un dibattito ricco raffinato e costruttivo. La sovranità appartiene al popolo. Si è stato deciso di non scrivere nell'articolo 1 la sovranità emana dal popolo. Su questo tema c'è stata una lunghissima discussione. L'onorevole Conti diceva emana sa un po' di profumo ma questa era una battuta ma in realtà ci fu un'ampia convergenza tra i costituenti su scrivere proprio appartiene. Perché appartiene? Perché l'idea di una sovranità che emana dal popolo era percepita come non sufficiente, come ambigua. Lucifero ad esempio disse con chiarezza, qui vorrei leggere delle frasi, sovrano è il popolo che tale resta permanentemente. La sovranità risiede nel popolo e in esso sempre rimane. Vi possono essere certo degli organi delegati che per elezione popolare esercitano la sovranità in nome del popolo ma la sovranità è del popolo e resta nel popolo. E quindi non al verbo emanare perché avrebbe potuto sminuire proprio questo principio su cui ci fu una larga convergenza. L'onorevole Togliatti e l'onorevole Cortese precisarono che il potere emana dal popolo mentre la sovranità appartiene al popolo. E Mortati nel progetto di Costituzione disse ancora questo, che non si voleva neanche mettere in dubbio la possibilità che vi fosse in futuro una interpretazione che tendesse a svilire. Il fatto che la sovranità non soltanto appartiene al popolo ma permane nel popolo attraverso anche il suo esercizio. L'intento dei costituenti in modo trasversale tra le varie forze politiche dunque è molto chiaro. Scongiurare qualsiasi interpretazione che un giorno potesse far pensare a delle sovranità trasferite o comunque delegate. Gli organi attraverso i quali la sovranità o i poteri si esercitano sono organi quali agiscono in nome del popolo ma che non hanno la sovranità perché questa deve rimanere al popolo. E Meuccio Ruini in un saggio del 1948, quindi appena è entrata in vigore la Costituzione, lo disse in maniera ancora più chiara. Sovrano non è il Parlamento, sovrano è il popolo. Il popolo è la forza che avvolge e muove gli altri organi dello Stato. Al popolo deve sempre spettare la prima e l'ultima delle parole. E questa concezione della sovranità popolare che noi ritroviamo nella lettura attenta del dibattito costituente porta con sé un altro corollario che fu espresso dall'Elio Basso qualche anno dopo, nel 1958, vorrei leggervelo. Il nuovo sovrano, il popolo, non diversamente da quanto faceva o avrebbe dovuto fare il sovrano assoluto delle antiche monarchie, deve considerarsi sempre nell'esercizio delle proprie funzioni, che non sono soltanto quelle di votare, ma altresì quelle di sorvegliare, controllare, criticare, insomma fare quanto è necessario perché la sua volontà si traduca in azione politica e legislativa. Il sistema statale disciplinato dalla Costituzione rompe nettamente con il vecchio Stato parlamentare liberale, nel quale al popolo veniva riconosciuto praticamente solo il diritto di eleggere ogni 4-5 anni il Parlamento, dando per presupposto, iuris et de jure, che il Parlamento rappresentasse la volontà popolare e che la maggioranza e il Governo interpretassero l'interesse nazionale. E sempre basso introduce, proprio come momento essenziale della democrazia, il problema della partecipazione permanente. È proprio un corollario del concetto di solidarietà popolare, partecipazione permanente. Il popolo è composto da tutti i cittadini e se la decisione sovrana deve intervenire con il concorso di tutti i cittadini, è necessario che tutti i cittadini abbiano la possibilità, diceva lui, di partecipare non saltuariamente ma continuamente al Governo della cosa pubblica. In un ordinamento democratico ci deve essere corrispondenza continua fra la volontà degli elettori e quella degli eletti, anche se naturalmente non è facile stabilire un controllo quotidiano e permanente dei primi sui secondi. E ancora, l'Onorevole Piccioni, il problema della democrazia moderna è questo, far sì che la maggior massa dei cittadini si autogoverni e partecipi permanentemente e direttamente alla vita economica e sociale del Paese. Bisogna cioè far sì che il popolo, tutto il popolo, i 28 milioni di elettori che si sentano interessati, associati quasi permanentemente allo sviluppo della vita pubblica, locale e nazionale. È un dibattito che va riletto con attenzione perché ci dà molte indicazioni. E poi c'è un passaggio ulteriore che non sempre viene messo in evidenza. L'Italia è una Repubblica democratica. L'Italia è una Repubblica democratica si lega strettamente alla sovranità popolare. Dire che è democratica significa darle una connotazione precisa di forma di Stato, cioè ha certe caratteristiche e non altre. Perché è democratica? Perché fonda il potere politico sul suffragio universale a tutti i cittadini secondo delle regole stabilite. E quindi la fonte di legittimazione del potere è esclusivamente la comunità politica. Cosa voglio dire? Voglio dire che il principio democratico, l'Italia è una Repubblica democratica, si fonda in maniera inscindibile con la sovranità popolare. È democratica in quanto c'è una sovranità popolare. Questo è il dato di partenza. Dopodiché la democrazia non è soltanto suffragio universale. Ovviamente c'è il problema dell'equilibrio tra poteri, ci sono i diritti, ci sono i doveri, ma da qui nasce tutto. E del resto Alexis de Tocqueville nella sua democrazia in America, lo aveva espresso con chiarezza un bel po' di tempo prima. Leggo, sovranità del popolo e democrazia sono due termini perfettamente correlativi. Il primo indica l'ideale e il secondo la sua messa in atto. Allora, attribuire la sovranità al popolo equivale ad assegnare in via definitiva alla comunità politica la titolarità e l'esercizio dei poteri. Dunque la sovranità popolare è il precipitato del concetto di repubblica e va intesa come appartenenza, come titolarità indisponibile a favore di tutti i cittadini. E allora la previsione di forme limiti secondo la Costituzione, che è l'inciso che tende a svilire, per così dire, nella interpretazione corrente la prima parte del testo, significa una cosa molto semplice, è la traduzione del principio per cui l'esercizio dei poteri in qualche modo delegati, attenzione, delegati non ceduti, non trasferiti dal popolo alle istituzioni repubblicane, ai poteri di governo in senso lato, devono svolgersi secondo norme giuridiche. I poteri di governo dunque devono essere legali, cioè si devono svolgere secondo forme giuridiche, intendendo per legali come legalità legale, rispondente alla legge, e legalità costituzionale, coerente con l'impianto costituzionale, ma non solo legali, anche legittimi, costituzioni, ovvero fondati nel popolo, derivanti dal popolo, conformi agli interessi del popolo. Qualsiasi decisione che riguarda la Repubblica spetta al popolo italiano, ciò perché la sovranità non riguarda solo la legittimazione politica, ma riguarda anche la determinazione essenziale dei contenuti della Repubblica. E allora qui si apre il secondo grande tema, sovranità popolare e sovranità parlamentare. È uno dei grandi nodi delle democrazie, no? C'è una tendenza, cioè a risolvere la sovranità dei governati con quella dei governanti, cioè abbiamo avuto nel corso degli anni, dopo la Costituzione, a una sorta di assimilazione, cioè sovranità popolare, in virtù di quelle forme limiti del primo comma, ed è divenuta di fatto sovranità parlamentare. Ora, è chiaro che tra le forme della Costituzione vi è la democrazia rappresentativa, ci mancherebbe altro, ma non si può, sulla base di solo questo, assimilare, appiattire la sovranità parlamentare sulla sovranità, la sovranità popolare e sulla sovranità parlamentare. E questa tendenza, che nel diritto costituzionale ha avuto molto successo, specie durante la Prima Repubblica, è una teoria, è una tendenza che ha fatto sì un po' col tempo a sciogliere, cioè a svincolare qualsiasi tipo di legame tra corpo elettorale e il rapporto governo-parlamento. Cioè, nella misura in cui si dice la forma parlamentare significa che il governo è emanazione permanente del Parlamento, è la formula classica che si usa nei manuali di Costituzionale, si è arrivati a suggellare una teoria per la quale, con il voto, rigorosamente una volta ogni cinque anni, si dà una delega in bianco ai propri rappresentanti, che poi liberamente potranno costruire accordi di governo, ribaltoni e quant'altro. Purché vi siano i numeri, questa è la, diciamo, vulgata che noi troviamo nei manuali. E ciò che, diciamo, la responsabilità di questa teoria la si deve a Leopold Elia, che un po' cripticamente, già negli anni settanta, diceva, parlava della massima disponibilità alle dislocazioni del potere di indirizzo politico. Cioè non è più nelle mani dei cittadini, ma con il voto ci si spossessa sostanzialmente di ogni tipo di indirizzo. È stata una ricostruzione che ha avuto molta fortuna, non è l'unica e forse neanche la più convincente, se noi andiamo a rivedere laicamente il dibattito in Assemblea Costituente. Ma non solo, anche la dottrina degli anni successivi all'Assemblea Costituente è immediatamente successiva. Penso ad esempio a un autore come Zangara, in un bel saggio pubblicato negli scritti in onore di Vittorio Emanuele Orlando, diceva chiaramente che la sovranità parlamentare non può essere onnipotente. Proprio perché gli organi del legislativo derivano la loro formazione dalla volontà popolare, non possono essere considerati sovrani se al concetto di sovranità parlamentare diamo un significato di indipendenza e di illimitatezza. È invece da ritenere che sussista una relazione giuridica molto stretta di continuità tra corpo elettorale e istituzioni di governo, sicché si può sostenere che il rapporto di fiducia non lega soltanto la maggioranza parlamentare con il governo, ma include anche il corpo elettorale. soltanto questa interpretazione dà un senso di coerenza all'articolo 1 della Costituzione, gli dà un qualche significato. Quindi non solo eleggere i rappresentanti, ma anche definire durante tutta la legislatura le traiettorie dell'indirizzo politico. Chi governa, come si governa, sulla base di quale programma. Ragionando diversamente, cioè aderendo alla tesi che abbiamo sentito anche molto in tutte queste settimane della crisi, cioè aderendo alla tesi che ha avuto successo durante la Prima Repubblica, si farebbe consistere la sovranità popolare in un dato meramente formale, come diceva il Presidente Scalea. Invece la sovranità popolare si attua concretamente allorché si proceda in una sempre minore distanza tra possesso della sovranità e suo esercizio. Possono assolvere a questa funzione i partiti politici? Per lunghi anni hanno avuto questo ruolo. Oggi no. I partiti politici rappresentano soltanto una parte degli interessi sociali. Non possono sostituirsi al popolo sovrano. E allora questa rinnovata esigenza di centralità del popolo che vuole esserci, contare, decidere, non è affatto in contrasto con i principi classici della democrazia rappresentativa, ovviamente, che è tipica delle società complesse. Qui ci sarebbe da dire tante cose, ma non abbiamo tempo. Voglio soltanto ricordare un intervento molto duro che fece l'allora Presidente del Senato Cesare Merzagora. Era il 25 febbraio 1960, quando attaccò i partiti che nel chiuso delle segreterie politiche facevano cadere il governo presieduto da Segni per dar vita a un nuovo governo Tambroni. Merzagora disse questo, poi si dimise qualche giorno dopo. Se i partiti politici, all'interno dei loro organi statutari, dovessero prendere le decisioni più gravi, sottraendole ai rappresentanti del popolo, tanto varrebbe, lo dico per assurdo naturalmente, trasformare il Parlamento in un ristretto comitato esecutivo. Risparmieremmo tempo e denaro. Dunque, e qui chiude il secondo punto, il voto non può essere ridotto ad una mera liturgia esteriore. E la Corte Costituzionale, in una recentissima sentenza, la numero 17 del 2019, nel conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, sulla legge di bilancio dell'anno scorso, c'è un passaggio che direi che andrebbe studiato e molto interessante, dove dice che forme e modi nei quali la sovranità si può svolgere non si risolvono nella rappresentanza, ma permene l'intera intelaiatura costituzionale. Si infrangono in una molteplicità di situazioni e di istituti. Quindi anche la Corte Costituzionale ha decretato che non c'è soltanto il voto. E allora io credo che bisognerà avere il coraggio di mettere mano nella carne viva del problema, che non è, a mio modo di vedere, crisi della democrazia, ma è crisi di rappresentanza, cioè crisi della sovranità popolare. E allora arrivo al terzo punto, se c'ho ancora qualche minuto, per provare a riattualizzare, e vado per flash, ma direi due considerazioni, forse una terza. Vediamo, ma primo punto, non solo in Italia, ma direi in tutta Europa c'è un risveglio della democrazia diretta. Cioè chi studia diritto costituzionale comparato sa bene che oggi, non soltanto in Italia, ma in Europa, c'è una domanda di democrazia diretta. E una domanda di democrazia diretta esprime esattamente questo, cioè esprime un disagio di un popolo rispetto ad un deficit di legittimazione degli organi rappresentativi. C'è ora in Parlamento la discussione sul referendum propositivo, non ci entro. La riforma Renzi-Boschi aveva degli aspetti negativi, ma sul tema del rafforzamento degli strumenti di democrazia diretta, cioè referendum di indirizzo e referendum propositivo, era una buona riforma. Seconda declinazione, scioglimento anticipato del Parlamento da parte del Capo dello Stato. che non abbiamo avuto. Ora, noi non ci dobbiamo nascondere che lo scioglimento anticipato è una decisione molto delicata per un Presidente della Repubblica. Ma ritengo che non mancavano elementi molto forti che avrebbero potuto suggerire al Presidente della Repubblica un diverso esito della crisi. E ancora una volta io voglio richiamare il dibattito in Assemblea Costituente, dove l'argomento fu trattato con molta attenzione, proprio per decontaminare il dibattito dalle propagande politiche. E leggendo con attenzione questo dibattito, anche sul tema dello scioglimento anticipato, si scoprono delle posizioni sorprendenti. L'Onorevole Larocca, Partito Comunista, ad esempio, incluse il potere di scioglimento anticipato come uno dei massimi poteri nelle mani del Capo dello Stato e disse il potere di scioglimento delle Camere è considerato da tutti il mezzo caratteristico del meccanismo per ristabilire un equilibrio venuto meno tra maggioranza e governo, ma anche, attenzione, per accertare la corrispondenza tra gli orientamenti popolari e quelli degli organi rappresentativi, in base al sospetto di mutamenti intervenuti nello Stato della pubblica opinione durante la legislatura o per affrontare problemi di considerevole importanza politica. E l'Onorevole Paolo Rossi, Partito Socialista, riteneva che lo scioglimento anticipato fosse una necessità e riconobbe attraverso una valutazione che oggi assume in casi carattere sociologico, ma direi molto attuale, e disse con Camere che durano 5 o 6 anni, all'epoca il Senato durava 6 anni, e con la mutevolezza dell'opinione pubblica in Italia, ma si era in Assemblea Costituente, sarebbe impossibile immaginare un sistema diverso, lo scioglimento è inevitabile. E le parole di Rossi offrono una provocazione all'attualità, è ancora attuale una legislatura che dura 5 anni, dovremmo ragionare anche su questo. E l'Onorevole Aldo Moro, quindi cambiamo orientamento politico, disse che lo scioglimento delle Camere è, leggo testualmente, uno strumento indispensabile per adeguare la rappresentanza popolare ai reali mutamenti dell'opinione pubblica al di fuori della durata normale della legislatura. E così ancora l'elio basso, non abbiamo tempo, ma direi che veramente tornano alla memoria le parole del conte di Mirabeau, richiamate allo stesso Ruini nella sua relazione, secondo cui lo scioglimento è il mezzo migliore di lasciare modo di manifestarsi all'opinione pubblica che non ha mai cessato di essere la sovrana di tutti i legislatori. E poi c'è il famosissimo Mortati, che già nell'edizione del donale di diritto pubblico del 52, ma poi ancora nel 58 e poi nel 60, ha parlato esattamente di questo. Lo scioglimento è l'armonizzazione fra rappresentanti e rappresentati, che meglio appare adeguabile alla struttura propria del regime parlamentare. L'accertamento della corrispondenza fra volontà del popolo e quella dei suoi rappresentanti. Anche la dottrina costituzionalistica successiva all'Assemblea Costituente, più recente, si è concentrata su questo tema e visto che la Costituzione non prevede delle tipologie di scioglimento, se le è in qualche modo codificate. E c'è una dottrina molto consolidata, non soltanto appunto Mortati, ma più recentemente anche Barile, anche Ruggeri, che hanno sostenuto, Pizzorusso, che hanno sostenuto esattamente questo. Laddove c'è un'aperta frattura fra Parlamento e Paese, laddove vi è il venirmeno della corrispondenza tra eletti ed elettori, quando cioè si ha un difetto di rappresentatività dei rappresentanti, quando c'è uno scollamento fra Paese legale e Paese reale, lo scioglimento è la soluzione. E allora io ritengo che veramente sarebbe distorsivo e sbilanciato in danno del fondamento della rappresentatività articolo 1 pensare che in caso di crisi della maggioranza non si debba verificare la congruenza tra questa nuova maggioranza e la volontà del corpo elettorale e ancora prima di saggiare se esiste una maggioranza alternativa di governo. Questo argomento, lo dico da costituzionalista, e la cosa mi è molto dispiaciuta, è stato tabù per intere settimane nel dibattito tra noi giuristi. E invece lo scioglimento anticipato è esattamente forma della Costituzione, nei limiti e nelle forme della Costituzione, è esattamente una declinazione di quell'articolo 1. E poi c'è la terza questione su cui ovviamente non mi posso soffermare, la questione del sistema elettorale, che non è né può essere una variabile indipendente rispetto al concetto di sovranità popolare. Permettere al popolo sovrano ovviamente non solo di essere rappresentato, ma anche di decidere come essere rappresentato. E allora davvero io ritengo che oggi il concetto clou sia il concetto di partecipazione. C'è un bel libro di Alain de Benoist che parlava di questo, democrazia come partecipazione, cioè appartenere ad una comunità e assumere un ruolo attivo negli affari pubblici, non solo attraverso il momento del voto, ma anche attraverso la possibilità di manifestare consenso, rifiutare consenso, esplorando tutte le possibilità che permettono di legare più direttamente il popolo ai propri governanti. Democrazia, insomma, non come massimo di uguaglianza, ma con massimo di partecipazione. Perché, diceva De Benoist, la partecipazione di un popolo al proprio destino è ciò che caratterizza la democrazia, che non è la forma di Stato, ma è la partecipazione del popolo allo Stato. Io credo che su tutti questi temi c'è una grande battaglia culturale ancora prima che politica da fare, quindi credo che davvero interventi e momenti di riflessione come questo e l'attività del centro studi possa essere molto molto importante. Grazie. Grazie professoressa per questa rassegna necessariamente breve e sintetica su un tema cruciale come quello della sovranità popolare nella nostra Costituzione. So che avrebbe potuto parlarne per ore e il tema avrebbe anche meritato il tema e il modo in cui lo stava affrontando. Chi volesse approfondire, oltre ovviamente alla bibliografia scientifica sterminata la professoressa, troverà un paio di articoli più divulgativi nel nostro sito, lì ci sono anche articoli di altri autori che toccano tematiche, la stessa tematica o tematiche simili, penso al dossier del professor Bellizzi che ci onora della sua presenza oggi riguardo al caso Diciotti. La professoressa anche nella sua rassegna poi nell'ultima parte ha attualizzato il problema in merito alla politica interna ma anche nelle prime due parti più dottrinari che credo nessuno fosse sfuggito quanto fosse concretamente legato a quanto sta accadendo nel Paese proprio a livello di politica interna. Chi in media a questo punto è l'onorevole Vinci può spostare la prospettiva da quella scientifica a quella concretamente politica. Grazie, grazie innanzitutto a chi ha organizzato questo meraviglioso evento, grazie soprattutto a tutti voi perché oggi parlare di politica e occuparsi di politica anche in un giorno come questo di metà, di inizio ottobre quando la gente si allontana sempre più e difficilmente si ricorda che per esercitare correttamente la democrazia bisogna anche conoscere, conoscere appunto gli strumenti rappresentativi bisogna anche darsi da fare perché un diritto ma a nostro avviso la democrazia e anche il potere di esercitarla è un dovere, un dovere di rimanere informati e informarsi su quello che sta capitando e cosa succede oggi nel Paese. Io ritengo che quello che sta succedendo oggi sia una deformazione, una decadenza della politica una decadenza che è iniziata già purtroppo da parecchi anni noi tutti ci ricordiamo il 2011 quando il governo del centrodestra cadde e per due anni ci fu un ribaltone che non era assolutamente richiesto e voluto dagli italiani anche in quel caso ci fu un totale ribaltamento di quello che era il sentimento sia del proprio italiano che degli elettori e ci furono due anni di governo tecnico all'epoca ci fu venduto questo come un governo tecnico quindi un qualcosa che andava oltre che quindi non si schierava politicamente contro il governo precedente ma era fatto per il bene degli italiani. Poi nel 2013 è iniziata una legislatura con un governo che non aveva esattamente i numeri ricordiamo tutti il governo Letta poco dopo ci fu la frase che rimase detto tutt'ora nella storia rimarrà nella storia stai sereno detta da l'odierno senatore Renzi a Letta poco dopo ci fu un altro ribaltone dando il potere questa volta a Renzi vi fu questa riforma elettorale questa riforma costituzionale che non andò a buon fine con la promessa che in caso di mancato raggiungimento appunto della maggioranza in questa riforma costituzionale sarebbe andata a casa sarebbero cambiate le cose e sotto gli occhi di tutti che non è cambiato assolutamente nulla c'è stato un altro ribaltone che ha portato a un altro anno di governo Gentiloni pensavamo di essere usciti da questa deformazione della democrazia invece ci siamo ritrovati con un governo che è durato un anno dopo un anno c'è stato un altro ribaltone e oggi siamo al conte bis ritengo che questo sia ancora più grave di quello che è successo nei governi precedenti nei ribaltoni precedenti per questa volta c'è stata una totale inversione non si è neanche provato a vendere questo cambiamento come un governo tecnico quindi come un governo che ha voluto in qualche modo salvare il paese per un determinato periodo per traghettarlo poi verso nuove elezioni come in qualche modo spacciavano i governi precedenti questo nuovo governo fa un'inversione su temi principali sulla sicurezza sull'immigrazione totalmente contrastando quello che è anche l'opinione pubblica se andiamo a vedere i sondaggi presi sempre con le molle ma oltre il 75% era d'accordo sulla linea del precedente governo sull'immigrazione e cosa ha fatto il nuovo governo ha esattamente ribaltato immediatamente questa linea sulla sicurezza sui fondi per la sicurezza il popolo italiano come la maggior parte dei cittadini immagino anche nel resto del mondo vuole città più sicure vuole vivere in un mondo in cui vi è uno stato di diritto anche in questo caso vi è stata un'inversione di tendenza con dei fondi che sono stati immediatamente destinati ad altro quindi all'interno della stessa legislatura vi è un nuovo governo non di tipo tecnico ma di tipo politico che ha preso una direzione nell'arco di un mese totalmente opposta alla precedente e non vi è stato nessun tipo di controllo all'interno delle istituzioni quindi con il Presidente della Repubblica non ha pensato di sciogliere le camere perché si è trincerato dietro il fatto che viviamo in una Repubblica ancora di tipo parlamentare e che il Parlamento come è stato citato prima se ha i numeri può fare e può decidere ciò che vuole questo non è così non è così per chi fa politica all'interno di queste sale perché anche chi è oggi in maggioranza sa bene che il consenso popolare va in una direzione diversa da quella attuale sicuramente agli occhi dei cittadini qualcosa all'interno di questo palazzo non va e andrebbe modificata anche dal punto di vista costituzionale la rappresentatività che i parlamentari hanno non solo i parlamentari ma anche il Presidente della Repubblica probabilmente sarebbe ora dopo tanti anni di fare un salto di passare a una Repubblica di tipo presidenziale e non più parlamentare la politica in oltre 70 anni è cambiata sono cambiati anche i cittadini sono cambiati i tempi già in fase di stesura della Costituzione vi era il problema del cambio rapido dell'opinione pubblica oggi gli spostamenti come si vede anche dai dati elettorali sono ancora più rapidi i partiti che sono al 3% possono arrivare al 35% se gli italiani sposano le proprie idee e altri che hanno il 40% in poco in un paio d'anni possono calare al 20% ancora più cose che sì potevano essere previste anche in fase costituente ma era impensabile che all'epoca il PC o la democrazia cristiana si ritrovassero con sbalzi di 20-30 punti all'interno della stessa legislatura o a distanza di un solo anno quindi è ancora più importante oggi avere degli strumenti e utilizzarli per interrompere delle legislature che non rappresentano più con dei governi che non rappresentano più il volere dei propri cittadini ritengo anche un'altra cosa non sono di quelli che pensa sempre al complotto ritengo che questa decadenza sia dovuta a un qualcosa che sta cambiando già da 20 anni nel nostro paese non mi piace parlare in Italia di democrazia legata ad esempio alle primarie o di democrazia legate legata a piattaforme come la piattaforma russo perché quando si cerca di legittimare le proprie scelte attraverso il consenso di appartenenti al proprio partito che vengono poi vendute all'esterno come un forte appoggio popolare come è accaduto nel partito democratico negli anni scorsi quando si faceva questo sfoggio di oltre un milione o due milioni di partecipanti al voto di di cose di elezioni interne di primarie interne al partito con dei risultati anche eclatanti e si cercava di vendere questi risultati come un consenso che andava al di fuori del proprio partito perché noi tutti ci ricordiamo i festeggiamenti per la vittoria magari il segretario di un partito con ampia maggioranza per la scelta di un candidato premier da parte del PD oppure le ultime diciamo votazioni sulle piattaforme russo dove ci si è entusiasmati per decine di migliaia di voti espresse da chi non dai cittadini italiani ma espresse per il 79% per oltre 70 mila voti da appartenenti a un singolo partito politico quindi c'è una deriva che porta a autolegittimarsi attraverso dei voti interni al proprio partito che vengono poi riversati sui cittadini come se ci fosse un grande consenso popolare cosa c'è di meglio che un consenso popolare legato al vero consenso popolare di tornare al voto e dare la parola ai cittadini e far votare tutti quindi non su delle piattaforme non all'interno di primarie e questo negli anni è stato uno strumento che ha in qualche modo dopato fatto credere qualcosa di diverso o comunque ha consentito ai leader politici di vendere come vittorie quelle che erano piccole vittorie personali all'interno dei propri partiti e non invece un forte consenso all'interno del paese tutto questo va a mio avviso radicalmente cambiato occorre che sia l'istituzione a partire dal Presidente della Repubblica fino ad arrivare ai singoli cittadini prendano atto che qualcosa va cambiato che non possiamo accettare dei ribaltoni di questo tipo come quelli che abbiamo visto negli ultimi otto anni nel nostro paese rimanendo fermi rimanendo con una sorta di rispetto per le istituzioni ma in un paese in cui le istituzioni si stanno addormentando perché questo è assolutamente pericoloso nel momento in cui le istituzioni continuano ad autolegittimarsi i partiti continuano ad autoaccreditarsi soltanto per votazioni interne si può arrivare anche a strutture che possono finire con o un cambio di rotta e una democrazia vera o con delle forzature anche antidemocratiche con oggi la riduzione dei parlamentari di un terzo dopodomani la riduzione di un altro terzo dopodomani si passa veramente a una democrazia che non è più democrazia perché diventa autoritarismo e oggi questo rischio ritengo che sia assolutamente presente nel nostro paese perché fino a quando le istituzioni non capiranno che devono difendere quello che è stato un percorso lungo e democratico che è arrivato fino ad oggi questo pericolo insomma è via via crescente nel nostro paese quindi ritengo che tutti noi dobbiamo fare la nostra parte a partire da noi parlamentari fino ad arrivare ai singoli cittadini per difendere quello che è stato un percorso che ci ha portato nel 48 ad avere una costituzione oggi nel 2019 dobbiamo ancora rispettarla riscoprirla non riempirci soltanto la bocca della difesa della costituzione ma applicarla e per prima cosa studiarla perché molti anche qui all'interno di questo palazzo purtroppo oggi non la conoscono e quindi non sono neanche in grado di applicarla quindi grazie ancora alla professoressa e al centro studi per aver organizzato questo incontro e mi auguro che siano sempre più frequenti con anche altre iniziative darò una mano penso anche personalmente a creare iniziative anche in altri territori anche in Emilia Romagna la regione dalla quale provengo perché sempre più spesso anche non soltanto qui a Roma ma sui territori si parli di queste problematiche che sono veramente un problema per tutti noi grazie molte all'onorevole Vinci il suo discorso è stato un perfetto corollario analisi della professoressa anticipo anche che causa impegni parlamentari fra qualche minuto l'onorevole ci dovrà lasciare quindi se lo vedete alzarsi non è perché sdegnato da qualcosa che è stato detto ma dalla necessità noi abbiamo comunque tempo per un dibattito chiedo ora all'onorevole Picchi di aprirlo poi se avranno piacere sicuramente sarà gradito dal pubblico sentire anche le opinioni dei professori Gervasoni e Capozzi che già conoscete come altri membri del nostro consiglio scientifico grazie grazie Daniele la prima cosa che voglio fare è ringraziare la professoressa Ginevra visto che siamo diventati amici nel corso di questi ultimi mesi per aver accettato insomma di far parte del consiglio scientifico del Machiavelli che da quando ha iniziato la sua attività oramai nel febbraio del 2017 è cresciuto molto è cresciuto il numero di attività che abbiamo fatto di dossier e finalmente si sta dotando di un consiglio scientifico di primissima qualità quindi veramente grazie per aver aderito a questa al nostro consiglio scientifico naturalmente grazie a Lonevo Vinci che ha accettato di partecipare che lui ha un osservatore privilegiato essendo una commissione affari costituzionale e quindi tutti i giorni verifica nelle commissioni parlamentari come lo faccio anch'io come il concetto che la sovranità appartiene al popolo non sia assolutamente applicato è un qualcosa di un'enunciazione di principio molto affascinante però nella sostanza non funziona non funziona perché ci ricordiamo che già nel fine del 1993 l'allora Presidente della Repubblica di fronte a un Parlamento che era sicuramente delegittimato dal punto di vista politico sul travolto dagli scandali famoso Parlamento degli Inquisiti pur essendoci una maggioranza Camera e Senato pronta a votare la fiducia a un eventuale governo ritenne costituzionalmente quindi in conformità con quanto i padri costituenti nel dibattito dell'Assemblea Costituente come ha ben ricordato la professoressa Cerina Ferroni che è mutato il sentiment dell'opinione pubblica in quanto tale essendoci uno scollamento tra l'istituzione eletta e il corpo elettorale era necessario quanto prima tornare al voto e lì fu sciolto lo stesso Presidente della Repubblica non applicò poi nel 1995 quando cadde il governo Berlusconi ma lì si ritenne che dovesse essere fatto un governo di salute pubblica per fare poche cose che doveva durare pochi mesi e poi tornare al voto ci ricordiamo invece che quel governo durò molto di più che portò poi alla lunga traversata del deserto del centro-destra dal 1996 al 2001 e ricordava bene Vinci ci siamo trovati nuovamente io ho avuto la sfortuna di esserci a partire dal 2010 qualsiasi tentativo per abbattere il governo legittimamente eletto che era il governo di Silvio Berlusconi del centro-destra perché era necessario per la salvezza del paese le pressioni che ci sono state questa volta in quest'agosto e nei mesi precedenti per abbattere la possibilità che ci potesse essere un ritorno alle urne e quindi un governo nel quale la Lega sarebbe stata il suo leader Matteo Salvini avrebbero potuto essere a Palazzo Chigi e quindi eleggere il prossimo Presidente della Repubblica era qualcosa che non si poteva in nessun modo autorizzare quindi il livello di pressioni fatte a tutti gli attori per far sì che l'unico motivo per cui è nato questo governo era non permettere alle elezioni si è tradito ancora una volta alla sovranità popolare l'ultimo esempio ci tengo a dirlo perché è proprio di questi giorni dove la sovranità popolare veramente non conta nulla e tutto l'europeismo di cui si parla in questi giorni è quello che è avvenuto sui tazzi fatemi dire non c'entra non è prettamente ma è un esempio di mancata sovranità popolare a noi abbiamo quattro paesi che sono azionisti di una società privata che è l'Airbus che sono Francia Germania Regno Unito e Spagna le quali questi paesi per mantenere fabbriche posti di lavoro hanno concesso una serie di finanziamenti che sono stati poi definiti dal WTO aiuti di Stato a una società privata mi spiegate perché l'olio d'oliva piuttosto che il prosecco il prosciutto o il parmigiano hanno a che fare con i posti di lavoro che nel loro interesse nazionale giustamente per loro questi paesi hanno difeso non c'entrava niente quindi quando la soluzione è togliamo la sovranità ai parlamenti nazionali e quindi di conseguenza al popolo perché i parlamenti rappresentano il popolo e trasferiamola all'Unione Europea che meglio può rappresentare gli interessi dei singoli poi abbiamo la controprova dove quattro paesi su 27 hanno fatto qualcosa di commercialmente scorretto giudicato dal WTO poi apro e chiudo la parentesi cosa ha fatto il rappresentante italiano al WTO per sostenere la battaglia a favore dell'Italia perché non fosse punita l'Unione Europea ma fossero voglio dire almeno trovate delle compensazioni interne in modo tale che il danno eventuale che deriva dai dazi non fosse trasferito sui ma questa è la riconferma di come la volontà popolare e la sovranità non possa essere esercitata attualmente in questo paese noi questo lo vogliamo denunciare per cui facciamo questo tipo di incontri di divulgazioni per mostrare che esiste un'altra via che la sovranità popolare deve essere esercitata perché noi siamo contribuenti paghiamo le tasse non vogliamo che queste tasse finiscano a sovvenzionare dell'industria aeronautica francese o tedesca o se questo avviene vogliamo che questi paesi ci diano una contropartita per cui non credo che sia una bestemmia difendere l'articolo 1 della Costituzione credo che anche dentro questo palazzo tutti quelli che si riempono la bocca di Costituzione probabilmente non l'hanno mai letta molti perché non hanno nemmeno studiato alcunché con grande rispetto di tutti quelli che non hanno avuto il privilegio di poter studiare però una volta arrivati qua magari essendo parlamentari rappresentanti del popolo e quindi coloro che devono di fatto esercitare la sovranità popolare all'interno nel processo legislativo magari la Costituzione potrebbero anche leggersi e conoscere e rendersi conto che usare la parola sovranità non è una bestemmia ma è semplicemente declinare l'articolo 1 è difendere il cittadino contribuente che paga le tasse che partecipa alla vita sociale del paese e quindi è intollerabile che vengano date lezioni di democrazia e di quant'altro fatemi anche chiudere sull'ultima cosa io sono scandalizzato dal fatto che in questo paese ci sia stato un utilizzo allegro dei nostri servizi di intelligence recentemente e né i media nazionali né la politica che attualmente è la maggioranza si sia scandalizzato di quanto sia avvenuto altro momento in cui la sovranità del popolo è stata assolutamente mortificata ma siccome sono io ho grande fiducia sia nelle istituzioni e soprattutto nel popolo perché il popolo può essere spesso morale e quant'altro ma poi alla fine quando va a votare difficilmente sbaglia si può rimandare forse di tre mesi di sei mesi ma alla fine c'è il principio di realtà il principio di realtà è che poi a votare ci si va e quando si va a votare difficilmente il popolo sbaglia e la propria sovranità sa esercitarla in modo efficace grazie voglio fare grazie sono un piccolissimo corollario alla chiarissima e limpidissima lezione della professoressa Cerrina Ferroni perché mi ha molto fatto pensare quella frase di Roberto Lucifero che lei ha citato della sovranità che non solo appartiene ma permane nel popolo e Lucifero che è un personaggio storico a me molto caro e di cui mi sono anche occupato come storico è poco conosciuto dai più ma è stato un grande leader liberale nell'immediato dopo guerra uomo di profonda cultura costituzionale sostenitore del maggioritario e della democrazia di modello anglosassone e quando usava quella parola secondo me aveva in mente una cosa e cioè il with people noi il popolo che introduce la costituzione americana che per cultura gli era cara e che secondo me noi ritroviamo proprio in questo articolo 1 quando si parla della sovranità che appartiene al popolo il popolo introduce e presenta l'insieme dei poteri del regime rappresentativo ma fa sempre valere pensare una riserva di fondo che è quella che si rifà alla famoso appello al cielo derivato dalla filosofia di Locke e che si ritrova nella dichiarazione di indipendenza del 1776 americana i diritti fondamentali che appartengono a ogni componente della comunità civile vengono poi dal popolo come dire delegati con riserva al government appunto al sistema rappresentativo appunto con riserva in forma condizionata a patto che l'esercizio di questi poteri sia conforme a quello che è il fondamento della della Costituzione e questo è quel permane quindi mi sembra un richiamo molto appropriato e importante e ci mostra come ci sia una continuità tra l'origine liberale della della Costituzione americana e quello anche della Costituzione italiana in cui la cultura liberale ha giocato un ruolo più importante di quello che normalmente si ritiene grazie io volevo solo insomma dopo i ringraziamenti che sono stati fatti a livello istituzionale dal Presidente voglio ringraziare anche a titolo personale l'amica collega Ginevra per la splendida relazione che forse mi permetto di suggerire andrebbe mandata a un indirizzo mail tipo presidente chiocciolaquirinale.it che forse diciamo ne trarrebbe giovamento chiunque la legge insomma solo un diciamo una un richiamo molto molto opportuno all'Unione Europea fatto da dall'onorevole Picchi perché in realtà noi viviamo questi fenomeni che che sono stati elencati diciamo di crisi della democrazia li stanno vivendo quasi tutti i paesi non solo quelli appartenenti all'Unione Europea per la verità ma quelli appartenenti all'Unione Europea vivono la contraddizione filosofica politica fondamentale quindi una contraddizione non giuridica ma appunto filosofica politica nel senso che come diceva de Maestra alla fine del Settecento la sovranità è unica non si può spezzettare nel momento in cui viene ceduta una parte viene ceduta tutta allora siccome i paesi dell'Unione Europea hanno ceduto a partire dal trattato di Maastricht in poi quote sempre più ampie di sovranità però siccome diciamo la democrazia come la conosciamo e quindi la volontà del popolo è fondata sulla sovranità nazionale questa contraddizione di carattere appunto filosofico politico poi come tutte le grandi contraddizioni di carattere filosofico politico come dire deve avere una soluzione politica e questa soluzione politica ancora noi non la conosciamo certamente non può essere quello che vediamo in questi anni in questi mesi anzi pensiamo quello che sta succedendo in Gran Bretagna dove sostanzialmente il Parlamento anche in Italia per certi aspetti il Parlamento diventa una sorta di zattera di salvataggio di diga per una classe politica in molti casi delegittimata che fa degli accordi degli accordicchi degli intrugli per buttare fuori dal potere chi lo è diciamo chi è legittimato ad esserci o pensiamo per esempio al caso americano quindi non è solo un problema dell'Unione Europea però ecco questo problema è un problema che forse però la lettura questo lo pongo come sollecitazione a Ginevra forse la lettura dei padri della Costituente ci aiuta fino a un certo punto perché loro si muovevano in un'ottica in cui non immaginavano che la sovranità sarebbe stata ceduta forse non sarebbero stati neanche d'accordo oddio quelli togliati sì forse ma gli altri però non intendeva Bruxelles intendeva Mosca ma insomma comunque di fatto lavorava in quel caso per la sovranità nazionale gli altri non si immaginavano neanche detto che fossero d'accordo grazie se qualcun altro vuole intervenire fare domande vi chiedo solo di essere molto brevi non oltre mezzo minuto di cui 5 secondi dedicate anche a presentarvi prego se posso buonasera sono General Ormetti volevo due cose perché l'assemblea di costituzionalisti ha ritenuto in questo momento che quest'argomento fosse un tabù se mi spiega le cause magari secondo lei e poi perché da quello che ho ascoltato questa sera insomma mi sembra che sia ben chiaro cosa intendessero i nostri parti costituzionali per sovranità e quali siano a meno gli atti che può compiere un Presidente della Repubblica allora questa discrezionalità poi che a secondo dell'orientamento politico di un Presidente della Repubblica può andare da una parte o dall'altra perché se a me invece mi sembra molto chiaro quello che mi ha illustrato lei grazie raccogliamo la c'è un'altra domanda con accendere il microfono velocissima Giuseppe Masa l'esperto di cooperazione internazionale frequentatore assiduo del centro era per la professoressa e per l'onorevole vincima insomma non fa niente in parte poi tra l'altro questo argomento è stato ripreso dal Professor Gervasoni parlavo di cessione di sovranità chiedevo sulla cessione di sovranità da parte degli Stati nazionali europei all'Europa e di come non si sia alzato un solo mignolo tra tanti costituzionalisti contro questo fatto ma una cosa che mi interessa ancora di più è perché i referendum nella storia d'Italia degli ultimi 30 o 40 anni sono stati sempre usati per normare o per verificare l'opinione pubblica su fatti della vita privata e mai su grandi fatti della vita pubblica per esempio l'adesione all'Europa per esempio l'accettazione delle migrazioni e così via non è anche questa fondamentale sovranità grazie velocissimo Fabrizio Formicola io sono grandemente preoccupato più che dell'abuso della democrazia parlamentare dello sconfinamento del potere giudiziario sul potere legislativo perché vedo che se ne parla poco ultimamente anche sulla sentenza sulla sentenza sull'eutanasia noi abbiamo praticamente un potere giudiziario che detta ordini al potere legislativo e per tutta l'opinione pubblica è una cosa normale volevo sapere se condividete questa preoccupazione grazie grazie qualcun altro vuole fare una domanda ok possiamo dare la parola alla professoressa domande molto interessanti ci sarebbe da dire molte cose allora professor Gerbasoni sì è esattamente così noi abbiamo un problema gigantesco di legittimazione di giustificazione di ancoraggio costituzionale sulla cessione di sovranità perché il nostro processo di integrazione europea si è sviluppato ancorandoci ad un articolo l'articolo 11 della costituzione che certamente non era stato pensato per un processo di integrazione europea era la nostra partecipazione italiana alle Nazioni Unite sulla base di quell'articolo 11 noi abbiamo costruito sulla testa del popolo italiano senza mai consultarlo su questo tema a una progressiva cessione di sovranità sovranità monetaria che è uno proprio dei capisaldi della sovranità di uno Stato ma io penso insegnando il diritto costituzionale tutto il tema delle fonti del diritto cioè il monopolio delle fonti del diritto di produzione normativa evidentemente è uno degli assi fondanti della sanità di uno Stato e evidentemente oggi questa produzione certamente non è più nazionale anche se ancora i manuali parlano di gerarchia la costituzione la legge gli atti con forza di legge ma insomma è tutto è tutto cambiato anche perché ormai le fonti dell'Unione Europea non soltanto prevalgono sulle fonti di rango primario ma addirittura sulle fonti di rango costituzionale quindi è proprio un sovvertimento totale tutto questo è stato fatto sull'articolo 11 poi c'è stato il 117 ma era pensato per le regioni e poi c'è stata la costituzionalizzazione del fiscal compact nell'articolo 81 con una discussione politica che di cui diciamo il popolo italiano non sapeva assolutamente nulla e anche su questo tema forse una consultazione popolare sarebbe stata necessaria noi non abbiamo referendum consultivi nel nostro paese ma quando si vuole fare un referendum consultivo si fa perché nell'89 lo si fece una consultazione se l'Italia in maniera molto generica avrebbe voluto dar vita ad un processo di adesione all'Unione Europea eccetera eccetera quando io spiego agli studenti questo processo di integrazione europea mi trovo in grave difficoltà perché effettivamente non siamo più né carne né pesce e l'esperienza americana è un'esperienza interessantissima perché ci può in qualche modo dare qualche indicazione potrebbe essere oggi quello che era la confederazione prima di diventare una federazione in senso proprio ma siamo già molto più avanti rispetto ad una confederazione di stati per tutte le ragioni che abbiamo detto ma non siamo ancora e forse non diventeremo mai e dico per fortuna se l'Europa è di questo tipo con queste regole una federazione in senso proprio quindi si gioca su questo tema secondo me un problema molto grosso perché non c'è stata chiarezza non c'è stata una strategia politica e non si è avuto il coraggio di dire benissimo siamo andiamo verso un processo di integrazione di cessione di sovranità bene modifichiamo quantomeno la costituzione facciamo dei referendum facciamo come hanno fatto altri paesi la Germania la Francia hanno modificato le loro costituzioni e hanno reso trasparente il processo non così progressive cessioni senza che gli italiani possano dire assolutamente nulla quando c'era il referendum Renzi Boschi io andavo come tutti noi costruzionisti andavo in giro per l'Italia a fare conferenze la domanda dei moderatori o di qualcuno del pubblico era ma se si introduce il referendum consultivo poi gli italiani votano sulla nostra appartenenza all'eurosistema o all'Unione Europea direi di sì direi che se li si fa votare questi si fa votare poi magari anche la loro voce deve essere anche in qualche modo seguita poi si potrebbe parlare di quello che è successo in Inghilterra questa sentenza dei giudici inglesi della Supreme Court è una decisione sconvolgente perché i giudici inglesi hanno giudicato non avendo un testo costituzionale perché non c'è una costituzione scritta quindi hanno di fatto applicato un parametro costituzionale che non è scritto e dunque hanno riscritto loro la costituzione che non è scritta e tutto questo per così dire annullare una decisione politica che fa parte della storia costituzionale inglese si potrebbe aprire un capitolo molto interessante i costituzionalisti è un tabù sì è un tabù perché quando si viene in qualche modo toccato il ruolo del Presidente della Repubblica nel nostro paese cala un tabù nel rispetto della massima della prima carica ci mancherebbe io credo che però il diritto costituzionale insegna che esista un diritto per così dire di critica diffusa visto che l'organo non ha una responsabilità di natura politica né giuridica completamente irresponsabile non eletto è chiaro che l'unica forma di per così dire partecipazione popolare è quella di esprimere nelle forme legittime nelle forme costituzionali anche un dissenso talvolta su su sull'operato anche del supremo organo dello Stato però di questo tema in realtà c'è molta difficoltà a parlare come ci fu difficoltà a parlare alla formazione del governo la vicenda che poi condusse alla in sostanza alla una sorta di diniego sulla nomina del professor Paolo Savona anche su quel tema si cercarono di legittimare costituzionalmente e trovare dei precedenti che in realtà non c'erano perché qui si rientra nel tema nel grande nodo della nostra forma di governo parlamentare una non chiarezza sul ruolo del Presidente della Repubblica questo è un problema che noi ci portiamo di atto da moltissimo tempo tutti i poteri del Presidente della Repubblica tutti gli atti sono non sono tutti controfirmati perché il Presidente è completamente irresponsabile però perché dovrebbe essere escluso dall'indirizzo politico ma sappiamo che ormai diciamo dalla Presidenza Pertini abbiamo avuto un'evoluzione quindi prima di tutto sarebbe importante mettere mano ad una riforma del Presidente della Repubblica per fare chiarezza cioè fare chiarezza ad esempio in vari progetti di riforma ricordo ad esempio la riforma d'Alema commissione bicamerale nel 98 lì c'era si poteva essere d'accordo o non d'accordo ma in quel progetto di legge costituzionale si andava verso una forma semipresidenziale ma si indicavano precisamente i poteri del Presidente liberi di cui cioè il Presidente si assume la responsabilità politica e i poteri invece soggetti a controfirma cioè l'importante è fare chiarezza perché altrimenti ci sono soltanto casi di scuola e ogni volta noi dobbiamo in qualche modo ci si apre dei dibattiti infiniti e non si può e non si può dire questo è un grosso è un grosso e poi sul sul problema del potere giudiziario che dicevi che se ne parla se ne parla poco voglio ricordare invece proprio nel nostro sito trovare degli articoli della professoressa che spiegano che affrontano nel dettaglio questa tematica noi ora purtroppo si dobbiamo andare via nel salutarvi vi ricordo il prossimo appuntamento il 9 ottobre insieme all'università di Roma 3 parleremo di università libertà di ricerca libertà d'espressione con il professor Marco Gervasoni protagonista delle cronache nelle scorse settimane sul malgrado e esatto e quindi ancora però un grazie invito un applauso alla professoressa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti